Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B valenare nel buio vicino alle porte di Tannhoiser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.